Marco, la tua collaborazione con Mandelli? È una collaborazione che dura da tanto, è basata su un rapporto molto intenso, soprattutto umano. È un'azienda che è veramente molto flessibile, capace di interpretare i desideri espressivi dei designer e degli architetti e con loro abbiamo sviluppato un paio di collezioni che a noi sono piaciute molto e che hanno avuto un altro vero successo. Una è di fianco a te? Sì, è Sight, tengo molto a Sight perché è una geometria molto forte, fa parte di un'origine che risale quasi a Radical Design dal punto di vista della sua configurazione ed è una maniglia che si presta ad essere interpretata con texture e finiture molto diverse tra loro pur mantenendo questa idea di geometria, di solidità e di spazialità, quindi lavora con la luce in un modo particolare quindi è una sorta di icona per vedere maniglie. L'altro progetto? L'altro si chiama Seven ed è una maniglia che al contrario della Sight ha una connotazione molto più morbida, più fluida l'abbiamo usata parecchie volte nei nostri allestimenti ed è una maniglia che si presta ad essere molto gentile quindi si sposa con un'idea di interior design più fluido, meno geometrico ed è uno dei temi che stiamo sviluppando ultimamente sull'interpretazione di luoghi monumentali che come sai sviluppiamo e trasformiamo in alberghi o in residenze di un certo livello. Tra l'altro ecco proprio quello che ho notato in Mandela è questa coesistenza del passato abbiamo dietro una maniglia di portalupi per dire e anche del contemporaneo, anche nelle finiture hai detto giustamente l'inserimento in alcuni contesti, quindi questa volontà anche di dichiarare una storia non solo la contemporaneità. Assolutamente, questa fa parte del DNA dell'azienda, ci è piaciuto lavorare con loro proprio perché c'è questa profondità storica che stavi dicendo tu e anche la capacità di interpretare diversi materiali che poi convergono sul tema maniglia. Io lo dico, però poi magari mi sgrideranno, ma sul site abbiamo in mente una rilettura di questa forma anche attraverso colori nuovi e finiture diverse che proprio creano un ponte di continuità con l'idea di Radical che dicevo prima quindi crediamo di poter rilanciare questo prodotto in modo... Lo dicevo a Claudia ed Antonio. Senti, un'ultima domanda, qualche anno fa mi hai coinvolto in queste design walk era un momento un po' di freeze, il salone era fermo abbiamo incontrato alcuni luoghi della città, legati alla città di Milano quanto questo legare la comunicazione, il design, il tuo mondo che poi è internazionale a Milano per te è importante, visto che sei nato a Milano? Milano io credo che posso affermare, a caso tutti possiamo affermare che è la capitale mondiale del design, la cosa interessante è che ha questa doppia versione una versione chiamiamola così ufficiale e strutturata che è il salone del mobile che quindi è un elemento portante, ma altrettanto portante è anche la capacità della città di essere, come dire, osmotica nei confronti di questo fenomeno è un fenomeno che si diffonde ovunque, quindi dal piccolo negozio che viene reinterpretato magari per una settimana sola per presentare qualche oggetto di design particolare ha delle grandi installazioni, come tu ben sai, che vengono sviluppate a cui partecipiamo in città. Io credo che questa doppia faccia che converge proprio sul tema della diffondere il know-how e la bellezza e la capacità interpretativa del mondo attraverso il design italiano sia la carta vincente. E in qualche modo hai citato di nuovo il tempo, viva ZEIT! Viva ZEIT! Grazie, grazie a te!